Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio, la nostra seconda serata della festa regionale del popolo della libertà, io voglio fare solo i saluti e i ringraziamenti, iniziando, non me ne vogliono i politici, da quello che è un amico per noi ormai, veramente, anche dalla nostra festa, che è il direttore di studio aperto Giovanni Totti, che voglio ringraziarlo vivamente per essere qua con noi, poi voglio ringraziare il nostro coordinatore regionale, onorevole Michele Scandroglio, che ci è venuto a trovare come vice coordinatore Minasso ieri sera, il vice capogruppo alla Camera del popolo della libertà, l'onorevole Massimo Corsaro e il senatore Grillo, che ovviamente tutti gli anni viene a portarci il suo contributo alla nostra festa. Spero che possa essere una serata di approfondimento di politica nazionale, credo che il parter sia assolutamente di una qualità molto elevata e vi auguro un buon dibattito, grazie. Eccoci qua, più che dibattito io provo a porre qua ai nostri ospiti qualche semplice domanda e vediamo dove andiamo a finire. Secondo me la prima domanda, quella che sicuramente interessa a tutti, perché ci tocca direttamente nelle nostre tasche, è quella che riguarda la situazione economica del nostro paese, la crisi e l'attacco che sta subendo la moneta europea, l'euro, lo leggete sui giornali, tutti i giorni sui principali mercati del mondo, compreso oggi non è stata una giornata positiva per la Borsa di Milano e per le borse europee in generale. La politica in qualche modo è corso ai ripari, appena varato una manovra finanziaria importante che dovrebbe garantire di ripianare il deficit, di rispettare tutti i patti che abbiamo preso con l'Europa, però è una manovra anche molto importante nei numeri e che quindi rischia in qualche modo di deprimere quel poco di ripresa che forse all'orizzonte si poteva venire, o almeno di questo si sta parlando. Allora io giro poi, organizzatevi come volete sulle risposte, una risposta tutte e tre, io vorrei sapere se questa manovra mette a rischio i conti pubblici del paese, se questa manovra è sufficiente a mettere al sicuro l'Italia da un rischio Grecia, Spagna, Portogallo, quello che volete di default e poi una piccola nota polemica, perché c'è stata da tutte le parti, se questa manovra poteva in qualche modo essere più equilibrata, lo sapete c'è stata grande polemica sull'incapacità della politica di tagliare i suoi costi, se in questo senso si poteva in qualche modo fare qualcosa di più. Non so, Corsaro Scandroglio da che parte andiamo? Grillo. Io, purtroppo, le condizioni nelle quali viviamo ci obbligano a parlare il linguaggio della verità. La manovra che abbiamo fatto, e abbiamo fatto giustamente, è già stata bruciata, cioè oggi, quella manovra, a seguito della speculazione internazionale... Si sente? Ecco. Io, purtroppo, devo dire che la cosa migliore di questi tempi è dire le cose come stanno. La manovra, il governo ha fatto bene a proporla, il Parlamento ha fatto altrettanto bene a proporla, l'ha approvata con grande sollecitudine, però ormai l'abbiamo già bruciata. La speculazione internazionale che ha colpito duramente il nostro Paese ha fatto sì che ciò che doveva essere risparmiato è già andato in fumo. Quindi la condizione del nostro Paese adesso è tornata come eravamo un mese e mezzo fa. Allora, l'interrogativo qual è? E qui, cari amici, non possiamo sottacere alcuni fatti che stiano arrivando. Proviamo a fare degli schermini in modo da chiarire quello che sta accadendo. Noi siamo dentro la crisi economica, finanziaria più devastante degli ultimi 60 anni. Punto. Quando mai i capi di Stato e di governo dell'Europa si sono riuniti tante volte come si è successo in questi anni? Mai. Da quanto dura questa crisi finanziaria? Dura da quando è risultato fallito il sistema finanziario più evoluto del mondo? Quello americano. Gli americani hanno scherzato e hanno giocato in tutti questi anni avendo a disposizione due monete. Con una il dollaro hanno garantito un buon livello di vita ai loro cittadini. Con un'altra hanno purtroppo inquinato tutto il mondo occidentale. Soprattutto i paesi a cultura anglosassona che sono falliti, come è fallito il sistema bancario americano. Voglio riferire dell'Inghilterra, dell'Olanda, del Belgio, tutti i paesi in grave difficoltà. Qual è la condizione del nostro paese? Noi abbiamo avuto la fortuna di resistere alla prima tempesta finanziaria perché abbiamo dimostrato un'attenuta straordinaria nel nostro sistema bancario e finanziario. Dopodiché la crisi finanziaria è diventata una crisi economica. E allora un paese come il nostro, con un fardello pesantissimo di debito pubblico e con l'incapacità di mettere in campo una politica mirata alla crescita, sta in questo momento oggettivamente in terribile difficoltà. Noi siamo in difficoltà. Io ho apprezzato la politica che il ministro Tremonti ha proposto in questi anni. Ma da mesi sto dicendo che non è sufficiente perché la politica di rigore che dovevamo fare, ed eravamo obbligati a fare, il rigore fino a se stesso non ci porta da nessuna parte. Perché non ci porta da nessuna parte? Perché il mondo sta camminando, l'India e la Cina si stanno galoppando, l'America si sta riprendendo e noi siamo fermi perché non riusciamo a crescere. E perché non riusciamo a crescere? Perché non siamo più competitivi. E perché non riusciamo a essere più competitivi? E perché purtroppo abbiamo fatto una politica che non ha capito che il punto adesso è questo. Quindi l'imperativo adesso è continuare la politica di rigore, però avendo un'attenzione particolare alla crescita. Se non cresciamo siamo finiti, siamo finiti e questo purtroppo è una cosa non facile da fare perché non abbiamo più risorse pubbliche da investire e quindi è difficile alimentare una crescita, creare condizioni per una crescita, per una maggiore competitività in un paese che ha la rigidità del mercato del lavoro, che ha l'Italia, che ha le bardature di una pubblica amministrazione che Brunetta, per carità, ha fatto molto bene nella prima fase quando ha denunciato le strutture pubbliche di una amministrazione, però fatichiamo a imporre nuove regole, non ce ne abbiamo ancora nuove regole. E quindi in questa condizione, ovviamente, per fortuna che c'è l'euro e per fortuna che c'è l'Europa, anche se l'Europa sta dimostrando un'incapacità di conduzione politica, perché il caso della Grecia è emblematico. I tedeschi arroganti hanno fatto i loro comodi, si sono accorti solo 15 giorni fa che doveva essere salvato la Grecia. Peccato che se ne siano accorti un anno dopo, se lo facevano un anno prima era tutto di guadagnato. Quindi, cari amici, la condizione è una condizione mai vissuta dal nostro paese, perché il 92, lo dico io, corregione in Parlamento, la crisi del 92, che fu terribile anche quella, era inconducibile a vizi nostri. Nel 92 l'Italia scoprì che non poteva andare avanti a produrre come producevano l'Unione Sovietica e a consumare come consumavano gli Stati Uniti. Ma era una crisi italiana. Adesso noi stiamo soffrendo maledettamente una crisi importata per il fallimento degli Stati Uniti d'America, in un mondo globalizzato nel quale, questa è la cosa ancora più drammatica, il continente più debole, quello che arranca, è l'Europa, perché la crisi non è dell'Italia, la crisi è dell'Europa intera, è l'Europa che è un continente vecchio, dove la competitività, eccetto un po' i tedeschi che poi ne sappiamo perché sono bravi, hanno fatto l'euro come hanno voluto loro, perfetto. Quindi il problema non è l'Italia, il problema è l'Europa. E l'Italia in Europa deve esigere tre cose secondo me. Deve esigere una nuova governance. Bisogna che facciamo il salto di qualità, se continuiamo a ragionare in termini di sistema paese non ce la facciamo. Dobbiamo sperare che le nuove regole che tutte le volte si dice che devono essere approvate, si approvino davvero. Dopo il fallimento, torna a dire, il crack della lema, si riuniscono i capi di governo, i capi di Stato, ma la governance del mondo finanziario non è cambiata. Cioè nessuno sa ancora adesso quanta moneta circola né in Europa né nel mondo. Purtroppo dico questo perché nonostante questi disastri, purtroppo ci sono sì comportamenti, ma le nuove regole non ci sono, né a livello mondiale né a livello europeo. E quindi questo è un po' come dire un elemento di grande preoccupazione, di grande criticità. Quindi noi affrontiamo questa condizione già in una situazione di svantaggio per questo debito pubblico. Ma la mia tesi è che paradossalmente l'Italia, ancorché abbia questo condizionamento negativo, ha delle potenzialità che altri paesi non hanno. Il problema è utilizzare queste potenzialità. Perché l'Italia nel mass media è riconoscibile solo per la vergogna del debito pubblico, ma non è questo, perché se avessimo solo il debito pubblico e non avessimo il resto saremmo già dichiarati falliti. Allora il resto cos'è? Il resto sono che siamo i primi al mondo come capacità di risparmio. Ancora nel 2010 gli italiani hanno saputo risparmiare come nessun paese al mondo. Abbiamo lo stock immobiliare, lo Stato italiano ha lo stock immobiliare più robusto della Germania, dell'Inghilterra e della Francia. Perché lo Stato italiano è ancora ricco, ma purtroppo è ricco per l'edità di uno Stato socialista che è quello che aveva governato negli anni precedenti. Abbiamo le riserve aure terze nel mondo, cioè abbiamo 16-18 milioni di imprenditori che vogliono investire e abbiamo il sistema bancario più forte dell'Europa. Questi sono gli asset che ci consentono di stare a galla. Allora tenendo conto di questi fattori occorre che il governo, cosa che il Ministro Tramonti non sta facendo, mi dispiace doverlo dire adesso, ma chi mi conosce sa che io ho dieci anni che dal 2001 che dico che Tramonti non conduce a una politica economica adeguata alla realtà del mio paese. ha scoperto la politica di rigore, per carità era un passaggio obbligato, ma oggi la politica di rigore purtroppo per noi non è sufficiente, non ci porta da nessuna parte, il rigore dobbiamo per forza farlo, lo sappiamo tutti e in tutti questi anni abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Abbiamo il sistema sociale più generoso del mondo, le pensioni, la sanità, in quale altri paesi d'Europa ci sono? Nessun altro paese. E quindi capisco che è difficile dire queste cose, ma purtroppo è la realtà. Allora noi dobbiamo immaginare, Maroni l'altro giorno ha detto una cosa che io condivido in pieno, ancorché molto spesso non lo apprezzi soprattutto per il comportamento che ha avuto nella vicenda del collega Paolo, ha detto che è il tempo per rispacchettare il ministero dell'economia, perché noi viviamo anche questa anomalia, siamo l'unico paese in Europa dove una persona governa l'economia da sola, poveretto, è in un disgraziato isolamento, una persona, perché abbiamo fatto con la legge Bassanini l'unificazione dei tre ministeri, abbiamo demolito il dipartimento di Palazzo Ghigia e quindi c'è una persona e non va bene così. Probabilmente dobbiamo anche a livello di condizione economica creare le condizioni per una collegialità e perché si affermi questa logica nuova, cioè noi l'imperativo per il nostro paese, per uscire dalla crisi prima degli altri, meglio degli altri, noi dobbiamo puntare tutto ad una politica mirata alla crescita e le condizioni ci sono, mancano le indicazioni e le scelte della politica funzionali a questo obiettivo. Io condivido molte delle valutazioni che ha fatto Cigi Grillo nel suo intervento, soprattutto la fotografia che ha voluto dare del panorama europeo della crisi che stiamo vivendo, ma voglio cercare, perché poi questa è la nostra competenza e la nostra responsabilità, di tornare a circoscrivere un attimo il dibattito su quello che avviene a casa nostra, perché… un applauso al signore! Dicevo, dobbiamo tornare a circoscrivere alle nostre responsabilità l'analisi di quello che sta succedendo, innanzitutto perché questa manovra? Perché improvvisamente tutti in Europa hanno stabilito che si dovesse compiere lo sforzo del raggiungimento del pareggio di bilancio e non è che la cosa detta così finisce di esaurire tutti gli interrogativi dei cittadini che si chiedono perché da noi sta cominciando a diventare difficile mettere insieme il pranzo con la cena. Il dato è squisitamente tecnico ed è di facilissima comprensione se solo si parametra la situazione di uno Stato nazionale con le condizioni di ciascuna delle nostre famiglie. L'Italia, che rispetto alla media dei paesi europei è quella che deve percentualmente recuperare di meno per arrivare al pareggio di bilancio, è comunque un paese che tendenzialmente ogni anno incassa 100 e spende 105. Siccome ciascuno di noi è abituato a fare i conti a casa propria, sappiamo che se un anno incassiamo 100 e spendiamo 105, magari il primo anno può essere che avevamo 5 da parte e li utilizziamo per arrivare a sostenere i costi della nostra famiglia. Se il secondo anno spendiamo ancora 105 incassando 100, possiamo andare in banca a chiedere un finanziamento di 5 per coprire il buco che abbiamo generato. Ma se il terzo anno consecutivo continuiamo a incassare 100 e spendere 105, arriva il momento in cui anche il finanziatore ci dice che non ti do più i soldi che ti servono per avanzare il buco, anzi sai che c'è, è ora che cominci a restituirmi quello che ti abbiamo dato. E noi siamo esattamente in questa situazione. Meglio degli altri perché noi spendiamo 105 incassando 100, gli altri spendono 107, 110, 112 e quindi devono percentualmente recuperare di più. Peggio degli altri perché noi abbiamo un debito accumulato assai superiore rispetto agli altri. Un debito accumulato sul quale una fotografia pure per inciso va fatta. Perché l'Italia ha un debito non comparabile a quello di qualunque altro competitore europeo o d'occidentale? Perché c'è stata la successione di politici cinici e bari che hanno sperperato le risorse? Ma può darsi che in una certa parte sia stato così, ma certamente non in misura tale da giustificare l'esposizione del debito pubblico italiano? La realtà, l'ha detta molto bene Grillo, è che fino a che le condizioni erano diverse da quelle con le quali oggi non solo gli italiani, ma qualunque classe governante in Europa e nel mondo deve confrontarsi, erano diverse, l'Italia a differenza di altri paesi ha fatto in modo che la propria popolazione potesse vivere costantemente al di sopra delle proprie capacità. Garantendo servizi di pubblica utilità, welfare, pensioni, assunzioni nella pubblica amministrazione utilizzati troppo spesso come ammortizzatori sociali, in misura spropositata, tanto ogni volta che c'era la necessità di pareggiare i conti non si chiedeva il sacrificio alle famiglie e ai cittadini come magari facevano in altri paesi, ma si faceva ricorso alla leva finanziaria, alla svalutazione della lira, alle azioni sull'inflazione, all'emissione del debito in misura indiscriminata perché non c'erano i vincoli che ti imponevano di non emettere il debito in misura percentuale superiore al PIN. Fino a che tutto questo è stato possibile, gli italiani non si sono resi conto di vivere in una macchina che consumava più di quanto fossero in grado di alimentare, è esploso il debito pubblico e ciascuna famiglia non si rendeva conto che l'esplosione del debito pubblico prima o poi avrebbe rappresentato la necessità di mettere conto e di mettere mano in tasca per cercare ciascuno di fare la propria parte. Oggi le condizioni sono date in modo totalmente diverso, non si possono più fare le svalutazioni sulla moneta perché abbiamo una moneta unica, non possiamo più emettere i titoli di Stato al di sopra della percentuale che viene data, quindi è un'altra operazione che è venuta meno. Non possiamo più agire sull'inflazione perché i dati dell'inflazione sono determinati da parametri e vincoli che dipendono ancora una volta da tutta la zona aereo in cui l'Italia può incidere solo in minima parte. Non abbiamo più la possibilità di esplodere nel debito pubblico, abbiamo semmai con il riferimento ad un mercato finanziario unico, con una moneta unica, la necessità di rendere appetibile il nostro debito. Quando si dice che, i telegiornali ce lo dicono con una frequenza di ora in ora, lo spread è aumentato e lo spread è rientrato. Lo spread non è un drago che emette lingue di fuoco dalla propria gola vorace. Lo spread è la differenza tra il tasso di interesse del debito pubblico dello Stato più solido, nel nostro caso dell'aurea Euro a Germania, e il debito pubblico del paese di riferimento. Se domani mattina la banca centrale tedesca emette 100 euro di debito pubblico, il tasso di interesse è il 2,2%, se domani mattina Tremonti emette 100 euro di debito pubblico emessi dalla Banca d'Italia, il mercato per poter acquistare quel debito e quindi per dare il finanziamento che serve all'Italia chiede lo stesso 2,2% che viene chiesto ai tedeschi più un differenziale, quello è lo spread, che è il 2%, che è il 3% a seconda delle giornate, a seconda delle alterne fortune, delle alterne vicende e della credibilità del sistema italiano rispetto al mercato internazionale. Ogni punto percentuale di differenza in più, ogni punto percentuale di differenza in più nel debito pubblico, costa all'Italia 19 miliardi, cioè un paio delle manovre ordinarie, lasciamo perdere l'ultima straordinaria che abbiamo fatto, un paio delle manovre ordinarie che facciamo annualmente, per un punto di differenziale, questo perché? Per terrorizzare? No, per dire che la manovra, rispondo alla domanda, era necessaria? Sì, era necessaria, è stato giusto farla così? Sì, è stato giusto farla così perché è la manovra che ci consente di arrivare credibilmente nel 2014 con un bilancio in cui incassiamo 100 e spendiamo 100. Basta così? No, non basta così perché non solo per quello che ha detto Grillo, cioè perché con la speculazione che è stata incentrata in particolare sull'Italia, sulla Spagna, sulla Grecia in queste ultime settimane già un po' di quel recupero che abbiamo fatto ce lo siamo fatti erodere, ma non basta perché purtroppo l'Italia ha un sistema economico finanziario vecchio rispetto alle necessità e alle opportunità di sviluppo, perché delle due l'una o noi mettiamo le mani nelle tasche degli italiani e diciamo che ognuno deve, sulla base di una dotazione patrimoniale come vorrebbe la sinistra, tirar fuori dei quattrini per cercare di abbassare il debito pubblico e non è la politica che a noi piace e non è la politica che intendiamo perseguire, oppure l'altro rovescio della medaglia è che diamo elementi potenziali che possono far sviluppare il prodotto interno logico, dobbiamo intervenire sul numeratore per aumentare la possibilità. Qual è il problema? E vengo alla conclusione. Il problema è che noi abbiamo un sistema economico vecchio, è un sistema economico che è andato bene nei 30 e 40 anni di esplosione economica dell'Italia nel boom industriale, in cui l'Italia è stata sostanzialmente la Cina del mondo occidentale, in cui non si è contraddistinta per una qualità produttiva avanzata, in cui non ha investito in formazione e in qualità, in cui è stato il paese in cui si faceva la produzione di massa per tutto il mondo occidentale, oggi questo vantaggio competitivo l'Italia non solo non ce l'ha, ma non lo potrà mai più recuperare perché ci sono nel mondo sistemi e paesi e cicli di produzione che sono in grado di fare le stesse cose che si fanno a casa nostra facendole pagare 10 volte meno. Allora il differenziale di investimento dove la politica deve agire e mettere il nostro sistema economico industriale nelle condizioni di potersi riconvertire in termini qualitativi, il che presuppone la riattivazione di un circolo virtuoso tra domanda e offerta di formazione, perché le nostre università calano nella classifica degli elementi di formazione più appetibili in giro per il mondo, perché le nostre scuole non valgono, perché per 20 anni, per 30 anni, per 40 anni il nostro sistema di impresa non ha chiesto formazione qualificata, non ha chiesto personale in grado di fare cose innovative. Allora la vera scommessa deve essere purtroppo oggi con le risorse date quella di diminuire il sistema di difesa sociale che in Italia è stato costruito in questi anni e di utilizzare le risorse che si devono andare a restringere da quella parte per mettere le nostre imprese nelle condizioni di poter investire e di poter investire per rendere più appetibile la propria produzione e per poter ricostruire un circolo virtuoso tra domanda e offerta di formazione tale da poter ritornare a far competere le nostre imprese sul sistema internazionale, perché, chiudo, se noi non siamo in grado di ridare appetibilità e competitività al nostro sistema economico non sarà nessun ministro dell'economia, non sarà nessun governo, non sarà nessuna politica che sarà in grado di fare la ricchezza. Ministri dell'economia, governi e politica devono essere in grado di costruire le condizioni perché la sicurezza venga prodotta, ma nessuno, a meno di non voler tornare agli stati sovietici che non hanno avuto fortuna neanche sotto il profilo economico, oltre che su quello politico e culturale, è in grado di sostenere realisticamente che sia la politica poter produrre ricchezza da solo. Io, dopo due valenti esperti in materia, vorrei affrontare il tema sotto un profilo più semplice. quando Corsaro diceva noi incassiamo 100 e spendiamo 105, era esattamente la fotografia di quello che sta succedendo oggi. Io ho la sensazione che noi non incassiamo più neanche 100, quindi siamo da un lato a incassare 95 e da quell'altro a continuare a spendere 105. come si risolve questo problema? Certo la politica ha tutte le responsabilità, se ne deve assumere in pieno perché il governo del paese è affidato a chi governa e noi abbiamo governato tanto in questo periodo e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Probabilmente abbiamo sbagliato qualche cosa, perché se non avessimo sbagliato qualche cosa saremmo messi leggermente meglio. Gigi Grillo ha dato alcune chiavi di lettura che in parte condivido, altre le ha date Massimo Corsaro. Io credo però che ognuno di noi, io per primo, mi sono già scusato, io faccio parlamentare da pochi anni, per cui non penso di essere responsabile di tutti i mali in questo paese, però mi faccio carico anche di quello che è successo negli altri anni perché quando sei lì devi assumerti questa responsabilità. Detto questo, noi però dobbiamo anche immaginare una società più etica. Quando dico la parola etica, io lo ripeto molto in questi ultimi mesi, dico che ognuno di noi individualmente deve aumentare la propria attenzione, la propria onestà intellettuale. È la somma delle etiche individuali che fa l'etica collettiva. Questo paese meraviglioso, Grillo non ce l'ha ancora detto, ma spero che ce lo dica, ha anche un sommerso che è pari al 30% del valore oggettivo del nostro PIL. Ecco che allora ognuno di noi deve fare un piccolo sforzo o un grande sforzo alcuni per rimettersi nel circuito dell'etica individuale. Mi ricordo mia nonna, lo dico sempre perché è un fatto simpatico, che mi insegnava a lavarmi i denti con un bicchiere d'acqua. Io oggi guardo mio figlio, io continuo a lavarmi i denti con un bicchiere d'acqua, non voglio fare un grande vantaggio al paese, però dal senso di quello che si è. Mio figlio apre il rubinetto e per lavarsi i denti consumerà come meno 10 litri d'acqua. Il principio di tutto sta in un nuovo percorso individuale in cui ognuno di noi, politici, messi e frustati, vi togli lo stipendio, li buttiamo tutti in galera, va bene. Ma anche se facessimo tutte queste bellissime cose, il sistema non funzionerebbe lo stesso se ognuno di noi non fa quel pezzo di strada in più. E lo deve fare quello che non vuole fare la fattura, lo vuole fare chi si approfitta facendo la cassa integrazione per fare il lavoro in nero, lo deve fare il politico che fa le cose che non deve fare, ma lo deve fare anche il giornalista che deve dire la verità e non deve spaventare nessuno. Io credo che tutti insieme ce la possiamo fare, ma se tutti insieme ragioniamo nel senso dell'etica e ci poniamo rispetto al grande problema con disposizione d'animo positiva, il nostro futuro non sarà un futuro drammatico, perché di nuovo cito Grillo, i fondamentali ce li abbiamo tutti. Abbiamo una nazione sana, una nazione che è fondamentalmente capace di reagire, abbiamo intelligenza, abbiamo credo le migliori menti che abbia prodotto il mondo dal rinascimento ad oggi, sono nate tutte in questo paese e continuiamo a produrre scienziati che esportiamo nel mondo, per una delle poche cose che esportiamo significativamente sono i cervelli. Se tutti insieme facciamo un passo in più verso una condizione di oggettivo sforzo per non sentire il bisogno di avere tre telefonini, di avere cinque giacche nell'armadio piuttosto che dieci, un piccolo sforzo, tutti i grandi noi sono sicuro che ce la facciamo. Ecco che l'azione del governo in questo momento diventa anche propedeutica. Quando si dice esiste il sommerso, mi auguro che i nostri valenti tecnici, e qui ne abbiamo due perché sia Corsaro che Grillo sono due testi nella materia, potrebbero secondo me individuare un meccanismo per cui questo famoso nero in qualche maniera emerga. Perché l'Italia non si attrezza mai a far sì che la stessa quantità di nero che c'è in Germania, viene stimata intorno al 3-5%, si possa avere anche da noi? Perché la nostra capacità di produrre è una capacità di produrre inferiore mediamente a quella dei paesi più avanzati? Nell'un caso credo che ci sia una responsabilità individuale di chi produce questo sommerso e nell'altro caso la responsabilità individuale dal manager all'operaio di chi non fa per otto ore al giorno il suo dovere come lo fa uno di un altro paese. Ecco che dico che la salvezza, visto che noi abbiamo le condizioni oggettive per farla, per realizzarla, sta nelle nostre mani e io sono convinto che più ci spaventiamo, più arriviamo in fretta a determinarsi in questa direzione. Il governo non deve spaventare, deve dire la verità e la verità è una verità che se noi non ci tiriamo su tutte le maniche e facciamo il nostro dovere, allora sì che ci dovremmo preoccupare. Sono state date una serie di risposte molto serie, io mi vorrei agganciare alla chiusura dell'amico Scandroglio perché in realtà la sensazione, la giornalista io guardo che c'è nel paese è che la politica abbia saputo dare, sì, delle risposte tecniche probabilmente in certi casi anche molto efficace alla necessità di parare il colpo di questa crisi economica che però non abbia saputo dare delle risposte profonde, quelle etiche di che ora stava invocando l'onorevole. Alla fine la sensazione, e se no non monterebbe un po' questo clima anticasta, questa rabbia che c'è, è che alla fine i soldi, la politica italiana, ma non parlo di centrodestra, è incidentale che sia il governo oggi di centrodestra o centrosinista, li vada a prendere un po' sempre nelle tasche degli stessi e non sappia andare a prendere altrove. Lo dico per portarvi da un'altra parte, cioè da una parte l'avete detto, c'è una crisi strutturale di sistema, questa volta di sistema economico, nella fine degli anni Ottanta era di sistema politico, c'è una serie di inchieste della magistratura che certamente non aiutano in questo momento la credibilità complessiva del sistema della classe dirigente del nostro Paese, sappiamo di cosa sto parlando, milanese da una parte ma penati dall'altra, la P3, la P4, non sta certamente a me giornalista a dire dove si andrà a finire e quanto sono fondate queste inchieste, lo valuteranno poi i magistrati, ma c'è un clima di una magistratura come lo fu la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, chi sta seduto qua se lo ricorda. C'è un Parlamento, lo ricordava prima il Senatore Grillo, che dopo una ventina d'anni abbondante l'altro giorno ha dato l'autorizzazione ad arrestare un deputato, Papa, non so se era giusto darlo o meno, so che era vent'anni che non veniva data e io sono molto garantista e so che quella dell'autorizzazione a procedere è una cosa che dovrebbe proteggere un potere dello Stato, quello legislativo, da irruzioni debito in debito e di un altro potere dello Stato, quello della magistratura. Allora, mettendo tutto insieme questo, io sento, vorrei aggiungere, grandi quotidiani che sul clima anticasta, degli sprechi e delle incapacità stanno facendo campagne aggressive che trovano consenso nel Paese. Allora, siamo di nuovo in una situazione in cui la politica non saprà dare le risposte che il Paese si aspetta e quindi altri poteri dello Stato si prenderanno, a mio avviso ingiustamente, ma si sa che è un equilibrio il compito di portare il Paese altrove dove la politica non sa portarlo in questo momento. Questa è una domanda di grandissima attualità, la quale io ritengo di rispondere così. La crisi che stiamo vivendo oggi è peggiore di quella del 92, sotto il versante economico e finanziario. La crisi è molto più grave perché è una crisi, come ho detto poco fa, non italiana, è una crisi dell'intero occidente. Basta leggere i giornali, Obama non ce la fa a convincere i repubblicani a fare un accordo e se non riesce a fare l'accordo entro 2 agosto lui deve dichiarare il fallimento degli Stati Uniti. Ma quando mai nel tempo abbiamo vissuto queste condizioni? Non è mai successo. Io però voglio recuperare una cosa, la storia del mio Paese bisogna conoscere, lo dico a tutti quelli che sono interessati alla politica. C'è molta confusione perché purtroppo la gente studia poco e riflette ancora di me. L'Italia è uscita dalla guerra come un Paese distrutto e svergognato, non avevamo nulla, non avevamo un miniere, non avevamo petrolio, non avevamo infrastrutture, eravamo un Paese agricolo e sottosiluppato. Nel 48 è caduta una cosa importante, nel 48 al 92 l'Italia ha fatto nel mondo, nel mondo, ciò che nessun Paese ha altro fatto. Cerchiamo di mettere un punto fermo. L'Italia ha fatto nel 48 al 92 ciò che neppure i giapponesi, neppure i tedeschi, ancorché fossero dotati di cose che non avevamo. Dopodiché una cultura, la saldatura di tre culture, quella comunista, quella socialista, quella cattolica, ha fatto sì che questo processo di crescita si scaricasse tutto sul bilancio dello Stato. Nel 68 i comuni più progressisti erano Bologna e i comuni della saldista perché davano gratis l'utilizzo degli autobus. E poi abbiamo visto che cosa succedeva? Che le aziende dei trasporti scaricarono sul bilancio del comune, il comune sullo Stato, lo Stato metteva i botti e il debito pubblico è cresciuto così. Quindi siamo arrivati al 92 e ci siamo accorti che non potevamo più tenere quel tipo di trend. perfetto. E da lì è cominciato il disastro. Io non ho mai pensato che la falsa rivoluzione di mani pulite segnasse la discontinuità della prima repubblica con la seconda. È un inganno alimentato da una certa stampa. Il distacco e la discontinuità tra la prima e la seconda repubblica è segnato dall'ingresso dell'Italia nell'euro. È l'euro che fa nascere una nuova realtà. È l'euro che si può autorizzare a parlare di seconda repubblica. Perché nella prima repubblica, come ricordava bene Massimo, noi siamo stati campioni del mondo. Anche se ci siamo trascinati indietro un debito, ma come diceva il ministro Coria, se anche nel 92 avessimo fatto la somma algebrica tra il debito pubblico e il risparmio degli italiani saremmo stati comunque più ricchi di tanti altri paesi. Perché la cultura dominante cosa ha prodotto? Ha prodotto che le famiglie si sono arricchite perché tutti avevano sotto un materasso dei bot, avevano risparmi delle banche e lo Stato si è indebitato. Lo Stato ovviamente è comune, provincia, regionale. Quindi lo Stato di salute d'Italia non era drammatico allora. Lo sta diventando adesso perché, per le cose che diceva Michele, ma poi soprattutto perché non c'è futuro. Perché è più complicato adesso mettere in campo una politica finalizzata a far tornare competitivo questo paese. Allora, perché l'euro ha rappresentato questa discriminazione? È perché nell'euro è stato rigorato, non ci sono più risolute competitive, non ci sono più le cose che ci hanno consentito di fare quello che abbiamo fatto nella prima Repubblica. Nell'euro conta di produrre meglio costi più contenuti e noi questo confronto a livello europeo e mondiale lo stiamo perdendo. Ma perché? È perché, dico una cosa che così la capite bene, anche se io ho usato prudenza, 31 anni fa l'Italia produceva il 5% della cantieristica mondiale. C'erano 9 cantieri in Italia che davano lavoro a 11.000 dipendenti. Oggi l'Italia non produce l'1% della produzione cantieristica perché ci sono i cantieri coreani, giapponesi e cinesi che fanno le navi meglio di noi, più telecologicamente avanzato, a metà del costo nostro. Allora si dice, vogliamo rimettere in discussione questa cosa qui? Ma non per chiudere i cantieri, non per mettere la gente a casa, ma per dire non c'è futuro. Un certo tipo di produzione non è futuro. È inutile che illudiamo la gente mettendoci in prima fila nei cortei a scioperare insieme al Cigene e al Cislovi. L'abbiamo capito da anni che Cigene e al Cislovi sono elementi di conservazione. Ormai il sindacato in Italia è formato al 60% da pensionati, ma vogliamo continuare a illuderci prendendo in giro la gente o vogliamo pensare al futuro delle nuove generazioni che hanno diritto avere un paese che scommette su qualcosa di alternativo. Tutto qui, tutto qui. Dopodiché ne abbiamo le risorse, certo che ne abbiamo le risorse, perché noi siamo riusciti a fare cose che altri paesi non hanno fatto, ma è la cultura di sistema che lo sta prendendo. E allora sulla politica, così mi saldo con l'osservazione del nostro ottimo, noi dobbiamo fare una cosa, lo dico io che di qui dal tavolo sono l'unico che era già in Parlamento nel 1987. Nell'87 per arrivare in Parlamento dovevi conquistarti consenso, la gente doveva nel segreto dell'Una mettere il tuo nome, doveva votarti, non è più possibile andare avanti col Parlamento dei nominati, non ha senso, non è reattivo un Parlamento dei nominati dove comandano cinque persone e dicono cosa bisogna fare. Non è più possibile, è questo che la gente non tollera più, non se ne può più, ma l'etica comincia da lì, l'etica comincia da lì, ti devi guagnare il consenso e devi quotidianamente confrontarti con la gente che ti ha votato, che ti ha scelto, perché devi avvertire la tensione mediale di essere in Parlamento rappresentante di qualcuno. Oggi di chi siamo rappresentanti? Basta essere messi bene nella lista e questo non funziona, non va bene. Cominciamo da qui, i costi della politica, e qui mi fa piacere che ci sia un giornalista ottorevo, lunedì e martedì il Parlamento approverà il proprio bilancio. Io non ho ancora trovato nessun giornalista che abbia detto un pezzo di verità. Il Parlamento italiano costa lo 0,5% del costo della politica nazionale, lo 0,5% il costo del Parlamento, Senato e Cavale Deputati. Eppure tutte le polemiche, tutte le asprezze sono ricondotte da casa che sta in Parlamento. Ma non prendiamoci in giro. il costo della politica in Italia, fatto 100, il Parlamento costa 0,5%. Allora si dice che bisogna ridurre il numero di parlamentari. Amico, e nel mondo i paesi che hanno il numero dei nostri abitanti, la Francia e l'Inghilterra, hanno lo stesso numero di parlamentari. Perché dovremmo ridurlo in Italia? Per compiacere il Corriere della Sera, la Repubblica, questi che nel 1992 hanno fatto quello che hanno fatto per una posizione di comodità. Io certo sono convinto che la politica deve dare il proprio esempio. Ma dobbiamo ancorarci a qualche cosa di preciso. Allora, qualcosa di preciso dobbiamo farla tutta questa verifica qui. Quindi il costo della politica è esagerato. Le comunità montane erano cose esagerate. Le abbiamo tolte. Perfetto. Razionalizziamo. Ma non indugiamo alle demagogie. Perché le demagogie alimentano qualunquismo. Il qualunquismo distrugge la politica. E senza la politica, come diceva Giorgio Lapira, non c'è nessuno in grado di disegnare le regole da conferenza cesile. Perché la politica deve fare questo. Deve disegnare le regole in forza delle quali con il rosso non si passa e con il verde si passa. Deve creare l'armonia delle situazioni. Allora, sul piano economico, io sono fermamente convinto che il mio Paese ha delle potenzialità in audite. Solo che dopo l'abbriacattura doverosa di una politica di rigore sui conti pubblici, occorre tenere in testa una cosa che io la sintetizzo così. Da 12 anni in Italia siamo in presa un bradisismo. Il Paese Italia è dentro una sorta di bradisismo. Cos'è condizione? Allora, vogliamo accettare questa condizione e consegnare alle giovani generazioni un Paese sempre più popolato da officine, perché le officine rimarranno con l'intelligenza all'estero? O abbiamo la dignità e ci mettiamo nelle condizioni di uno scatto per ritornare ad essere Paese fondatore dell'Europa? È questo che dobbiamo rispondere. Dobbiamo umiliarci al pianto del debito pubblico, ma il debito pubblico si appartiene. Ma nella prima Repubblica nessuno mai usò criticare quando un'azienda veniva salvata perché era in condizioni disperate. Ma chi lo criticava? Era una cultura dominante. Oggi abbiamo capito che non si può più fare. Perfetto. Ma il debito pubblico ci appartiene. Non dobbiamo vergognarci, perché è parte di una storia gloriosa che torna a dire la storia più gloriosa dei paesi europei e occidentali. Allora, noi dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare sotto profilo culturale. Io faccio un esempio e do una notizia, così vediamo di attualizzare un aspetto. Io sostengo da anni che non è possibile difendere tutto l'esistente. L'Italia non ce la fa, non ce la può fare. Ci sono alcune produzioni, ma dobbiamo avere la forza di dirlo al sindacato e di scontrarsi e di andare e subire anche la piazza, certo, anziché come dicevamo con Massa, allargare l'ombrello e tutelare tutti, che poi intanto non ci votano di tutto. Allora ci sono delle produzioni che i cinesi, il cazzaturificio, i cinesi ci ammazzano e noi dobbiamo difendere il cazzaturificio, ma non hanno futuro. Perfetto. Ma se questo è vero dobbiamo scommettere sulle cose nuove. Bene, oggi è una giornata importante, oggi è una giornata storica. A Roma abbiamo firmato l'accordo per il terzo valico. Il terzo valico significa il treno veloce Genova-Milano, 32 minuti, sul dorsale che va fino a Rotterdam. Il terzo valico, il canale 5 e il corridoio 5 realizzeranno una condizione per cui il nord-ovest, Liguria, Piemonte, Lombardia diventeranno la piastra logistica più importante, non d'Italia, d'Europa e quindi rinascerà il triangolo industriale, ma non sotto il profilo di una produzione meccanica che tirava lo sviluppo del mio paese negli anni 60, sotto il profilo di una linea di lavoro nuovo, quella della logistica. Perché se è vero come è vero che la Cina sta diventando un paese leader nel mondo, che l'India è il paese a coda della Cina, che quel parte del mondo già oggi produce il 53% del PIL mondiale. Noi dobbiamo solo curarci, ma ci pensano i cinesi, che il sistema comunista regali, perché se regge questi sono costretti ad esportare e se esportano devono esportare in Europa e in America e quando esporteranno in Europa usciranno da Suez e impatteranno sull'Italia. E in Italia qual è la piastra logistica? Genova, Savona e l'aspetto. Qui ci sta la ricchezza del nostro futuro, quindi per questo dico che oggi è accaduto un fatto straordinariamente importante, l'Italia deve cambiare pello, dobbiamo fare una politica economica che punti a qualcosa di diverso, ad una specificità che ci appartiene. Quando sento dire ai miei colleghi che in Italia abbiamo troppe autorità portuali, sei un coglione, l'Italia è ricca di porti, nessun paese d'Europa ha tanti porti come l'Italia, ma è una ricchezza questa, non è un punto di debolezza, è una ricchezza. La ricchezza, secondo la mia opinione, verrà sempre più dal mare e dobbiamo sfruttarlo meglio e più. Quindi terzo valico, corridoio 5, noi dobbiamo immaginare il Piemonte, la Lombardia, la Liguria come una grassa, con il porto di Genova che sarà consolidato come porta d'ingresso in Europa. Questo è un esempio, ci è voluto molto, certo che ci è voluto molto, ci è voluto molto perché mentre noi ci abbiamo sempre creduto, il governo Prodi con Ronchi e Veltroni nel 1996 e il governo Prodi nel 2006 con Bersani rinegarono il terzo valico facendo decadere la concessione che era stata concessa, quindi loro hanno la responsabilità. Oggi prendiamo atto che sono tutti d'accordo, siamo contenti, oggi applaudivano anche loro e quindi andiamo avanti. Quindi amici, le potenzialità ci sono, bisogna che la politica recuperi lucidità di analisi e capacità di prendere decisioni anche in popolare. Se invece stiamo sui sondaggi, cose, piazze al cittadino, ma dove cavolo volete che andiamo? La politica è anche assuntione di responsabilità e doverosa responsabilità verso scelte impopolari che però ti danno un futuro, ti danno una prospettiva e questo lo dobbiamo dire, dobbiamo avere la capacità di spiegarlo ai nostri lettori. Noi vogliamo costruire un paese diverso, un paese che abbia la dignità di tornare ad essere un paese traino in Europa, non un paese che sta in fondo al gruppo come purtroppo stiamo adesso noi perché siamo il paese che cresce meno degli altri. E allora secondo me lo possiamo fare, lo possiamo fare ma ci vuole una politica che certo, come diceva Michele, recuperi il massimo di criticità ma anche il massimo di capacità di analisi e di capacità di decisione perché come i sindaci, io lo dico sempre, i sindaci nel tempo del DC erano tutti grandi mediatori, facevano le mediazioni, oggi il sindaco che vince è il sindaco che decide, il sindaco che prende le decisioni vince, piace, viene votato, lo stesso la politica a livello nazionale. Berlusconi l'ha detto fin dall'inizio che è sceso in campo, poi che non l'abbia fatto sappiamo per quale motivo, ma questo paese ha bisogno di fare un salto culturale, ha bisogno di credere nelle cose che può fare, noi nel comparto delle infrastrutture un po' lo stiamo facendo, fino al 2002 in Italia il 100% delle infrastrutture venivano costruite con i soldi pubblici, l'anno scorso il 35% delle infrastrutture sono state costruite con i soldi privati e nessuno se ne è accorto, così come se ne è accorto che la più parte dei parcheggi mai le fanno i privati, le progettono, le costruiscono e le gestitono i privati e questa è una piccola rivoluzione che dobbiamo consolidare, portarla avanti perché, torna a dire, la cultura di chiedere al governo, allo Stato centrale, tutto è subito, ormai è tramontata e non tornerà più. Io cerco di tornare alla domanda. Avevo sei anni, la prima volta che ho sentito parlare di politica ed è successo perché mi è capitato di origliare una barzelletta che un amico di mio padre raccontava a mio padre. La barzelletta diceva più o meno così, adesso non ricordo nel dettaglio, ma il senso era il tizio che arriva a Roma in centro con l'automobile, arriva in piazza di Montecitorio perché lascia la macchina, la chiude e fa per andarsene e viene immediatamente avvicinato dalla polizia e dai vigili di Roma che gli dicono, scusi signore lei qui non può parcheggiare perché qui siamo davanti al Parlamento e vengono tutti i deputati e quello guarda il vigile e poi gli dice ma non si preoccupi perché ho l'antifurto. Perché dico questa cosa? Perché l'antipolitica è una roba che insita nell'umore popolare da sempre, anche quando le cose vanno bene. Figuriamoci in una stagione in cui per le cose che ci siamo detti le cose vanno tutt'altro che bene. Figuriamoci in una stagione in cui per la prima volta dobbiamo dire agli italiani che alle necessità primarie non pensa sempre solo lo Stato, ma bisogna che comincino ad organizzarsi loro perché lo Stato non ha più la disponibilità per allargare la propria cintura a dismisura. E quindi è certo che l'antipolitica di oggi sulla quale intinge il pane un professionale sistema di comunicazione. Poi piacerebbe sapere per esempio quale balzo sia stato registrato nella dichiarazione dei redditi di Rizzo e Stella da quando hanno scoperto che il filone dell'antipolitica poteva rappresentare un elemento di comunicazione. Ma insomma, ognuno fa il suo mestiere. Non c'è dubbio che adesso siamo di fronte ad un attacco importante rispetto al quale, sono d'accordo con Grillo, dobbiamo rispondere con serietà e non con demagogia. Non dobbiamo rispondere con demagogia perché i numeri sono incomparabili. Chi dice che nella politica e nella gestione della politica nel suo complesso in Italia ci sono grandi sacche di dispersione, dice il vero. Chi dice che il recupero di quelle sacche di dispersione sia anche lontanamente paragonabile alla costruzione del fabbisogno di cui avremmo necessità, prende per i fondelli gli italiani. Stiamo parlando di parametri esageratamente diversi. Però anche qui la storia viene da lontano. La politica è stata ed è una cinghia di trasmissione anche rispetto a necessità di risposte popolari che altrove sono state realizzate magari mettendo in piedi circoli virtuosi tra il pubblico impegno e le risorse private, l'imprenditoria e quant'altro e che hanno visto l'utilizzo di ammortizzatori sociali per il canale della politica e il fatto di conoscere il parlamentare, il consigliere comunale, il sindaco. Io sono stato a 13 anni assessore regionale in Lombardia, che non è esattamente l'ultima regione dell'Angola e mi è capitato spesso di recarmi, avendo avuto deleghe all'industria e ai trasporti, di recarmi all'Unione Europea. Ed è una passeggiata educativa per chi deve rendersi conto di come non ha funzionato e non funziona in Italia il rapporto tra la società nel suo complesso e la classe politica che è sempre lo specchio della società. Se si va in Europa e si cerca di parlare come è capitato a me da assessore regionale con qualche direttore generale delle commissioni dell'Unione Europea o si conosce l'inglese, o si conosce il francese, o si conosce il tedesco o si torna a casa, perché non c'è un direttore generale nell'Unione Europea che sia italiano. Se si scende nei palazzi di Bruxelles dall'ultimo piano al penultimo e al terzultimo, cioè dove ci sono gli uffici, la stessa cosa. In tutti gli uffici dove ci sono i capi uffici e gli impiegati di concetto, ogni 100 impiegati di concetto se ne trovano due o tre italiani. Ma quando uscite dagli uffici e passate i corridoi dove ci sono i bidelli ed entrate negli ascensori dove c'è il dipendente del Parlamento Europeo in Livrea che deve schiacciare il bottone perché si suppone che voi non abbiate la forza o l'intelligenza per farlo da soli, state sicuri che quello vi parla in italiano. Perché? Perché siccome la partecipazione di tutti i paesi all'Unione Europea è parametrata alla propria popolazione e poi ponderata per paesi specifici, nei 20 e 30 anni in cui si è costruita l'Unione Europea e in cui cioè i paesi principali, noi siamo da sempre tra i primi sei paesi fondatori, quindi ci siamo dall'inizio, avevano la possibilità di partecipare alla costruzione della macchina Unione Europea. Dopodiché è chiaro che i posti hanno dei coefficienti. Se tu hai diritto a partecipare per 500 lì dentro e sai che il direttore generale vale 100, il capo ufficio vale 50, l'impiegato di concetto vale 20 e il bidello o quello che schiaccia il pulsante dell'ascensore vale 1, i tedeschi e i francesi hanno cercato di fare incetta dei direttori generali rinunciando ad avere bidelli e portantini. Noi abbiamo utilizzato anche l'Unione Europea, la politica italiana ha utilizzato anche l'Unione Europea come grimadello per fare clientela, per cui non abbiamo nessuno che segua le nostre pratiche, non abbiamo nessuno che tuteli gli investimenti e i finanziamenti per le nostre infrastrutture, cui faceva riferimento Grillo, in compenso abbiamo degli splendidi amici con i quali chiacchierare nei 5 o 6 piani in cui l'elevatore ci porta negli uffici in cui poi dobbiamo parlare in un altro idioma. Allora, se questo è il dato, vuol dire che purtroppo il rapporto malsano della politica con la società fa parte dei mali del sistema Italia da sempre, in cui la politica ha delle colpe, ma la politica non può avere delle colpe da sola. L'Italia è un paese particolare in cui si scopre sempre che c'è qualcuno che ha le colpe da solo. Io lo ricordo sempre nelle vicende sportive, perché siccome sono un accanito tifoso juventino, ho scoperto 5 anni fa che il direttore generale della mia società è stato squalificato, la mia squadra del cuore è andata in Serie B, ci hanno tolto due scudetti, dopodiché ci hanno detto che avevamo corrotto ma non è stato accusato un solo corrotto. Noi eravamo i corruttori e non c'era il corrotto. La stessa cosa vale qua. C'è la politica che non funziona, rappresenta una società che poi nei confronti della politica si lava le mani. C'è un interesse capzioso in questo? Sì. C'è la volontà da parte di qualcuno di utilizzare questo momento di debolezza e questo momento di difficoltà sociale che alimenta l'antipolitica per fare in modo che ci sia per la seconda volta un'altra cancellazione di lavagna completa per sostituire con qualche cos'altro e per sostituire magari con qualche altro potere che non abbia la legittimazione popolare ma che abbia la legittimazione della forza del codice per le mani. Sì, sono convinto di sì. Credo che su questo la politica però debba avere forte responsabilità. Chiudo ricordando una circostanza che, direttore, lei ha voluto portare alla nostra memoria nella sua domanda. Noi abbiamo vissuto un momento difficile del Parlamento la settimana scorsa. Quando alla Camera si è votato per l'autorizzazione all'arresto dell'Onorevole Papa e curiosamente venti minuti dopo, venti minuti dopo vuol dire che nel corso dei venti minuti tra Montecitorio e Palazzo Madama le voci corrono e quindi i senatori erano informati, me lo può testimoniare l'amico Gigi Grillo che era al Senato, venti minuti dopo per una serie di elementi circostanziati che alla semplice lettura dei giornali apparirebbero addirittura eticamente più gravi, il senatore del PD, al senatore del PD tedesco non è stata invece rilasciata l'autorizzazione per l'arresto con uno strabismo e con un cannibalismo della politica al suo interno che dimostra che non tutti hanno capito che c'è un attacco concentrico che vuole fare strali della politica indipendentemente dalle colorazioni per provare a sostituirsi. Detto questo però, il dato vero, lo dico perché sono stato credo il primo all'interno del nostro partito a dirlo in chiaro e a rilasciare anche delle interviste in questo senso a livello nazionale, noi però non possiamo alzare spallucce, cioè c'è oggettivamente un attacco concentrico nei confronti della politica, c'è la volontà di tornare a creare un clima nei confronti della politica che faccia sembrare che tutti siano dei cialtroni, che tutti siano dei furfanti, che tutti siano dei ladri. Sono convinto che così non sia, ma sono anche altrettanto convinto che nella nostra stagione politica sia necessaria quella riacquisizione di etica e di moralità a cui faceva riferimento Michele prima, per cui cominci a diventare un po' meno frequente il fatto che se io faccio politica e apro la porta del mio ufficio, dietro ho faccendieri, faccenducoli, rappresentanti, lobbisti, portatori di un interesse, portatori dell'altro, non solo nell'ufficio personale, ma nelle sedi istituzionali, perché poi noi leggiamo quello che succede dalle intercettazioni più o meno legittimamente pubblicate, ma quello che succede nelle istituzioni è eticamente ancora peggio, io faccio parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è la commissione nella quale si svolgono le discussioni sugli argomenti di maggiore rilevanza nazionale, cioè le leggi finanziarie, le leggi di bilancio. Quando c'è una manovra finanziaria, quando c'è una manovra di bilancio, ci riuniamo nella cosiddetta Sala del Mappamondo, perché la Sala della Commissione Bilancio è troppo angusta per consentire il lavoro con i faldoni di carte, di fotocopie degli ammendamenti che sono presentati, ci troviamo nella Sala del Mappamondo, che è la sala più grande nella quale si può lavorare alla Camera dei Deputati, e nello spazio antistante, vi svelo un altro male della politica, così almeno ci sarà un motivo in più per essere incazzati nei confronti dei parlamentari, c'è il vezzo di farsi portare i termos con il caffè, perché magari le sedute durano ininterrottamente per un giorno e una notte e quindi fuori il deputato cinico e varo esce e si consuma il caffè alle spalle della cittadinanza. Quel termos è il terminale dei mali dell'umanità, perché senza che lo sappiano o meglio, senza che lo scrivano i giornali, senza che lo intercettino i magistrati, il misero deputato che fa parte della Commissione Bilancio di qualunque partito non riesce a consumare il suo caffè perché tra la porta di uscita della Sala del Mappamondo e il tavolo nel quale è appoggiato il termos viene investito nell'ordine dal rappresentante dell'Associazione delle Banche, dal rappresentante dell'Associazione delle Assicurazioni, dal rappresentante di Confindustria, dal rappresentante di Confartigianato, dal rappresentante del Terzo Settore, dal rappresentante della Bocciofila, dal rappresentante dei centri sociali di formazione culturale sul ciclo di riproduzione della Fogamonaca e ciascuno cerca di rendersi simpatico a questo, a quel parlamentare perché all'ultimo momento dice guarda ci sarebbe questo emendamentino, non costa niente, però le assicuro che è una cosa importante, poi noi le diamo visibilità e rispetto. Allora, il sistema funziona così, non so come possa essere fatto funzionare altrimenti, ma certamente c'è la necessità di una riacquisizione di etica. Dicevo prima, io sono stato il primo a sollevare il tema con un'intervista che ho rilasciato al Corriere della Sera qualche giorno fa. Io sono contrario a lasciare campo libero a chi vuole uccidere la politica e prendere il posto della politica. Tradotto. Sono contrario ad autorizzare l'utilizzo della carcerazione preventiva in corso di indagine perché quello è uno strumento coercitivo che viene utilizzato per farsi dire anche le cose che magari non sono vere per uscire prima di galera ed è uno strumento di tortura mediatica prima ancora che fisica e culturale. Ma sono assolutamente favorevole che se c'è un sospetto su qualcuno la magistratura debba essere messa in condizione di andare fino in fondo a scoprire che cosa c'è, sono assolutamente favorevole a garantire che se si scopre con un grado di giudizio definitivo che qualcuno ha fatto qualche porcheria quello debba essere condannato e debba pagare la sua condanna e sono assolutamente non favorevole ma determinato a fare in modo che diventi uno stato di necessità almeno nel popolo della libertà, che quando qualcuno è credibilmente soggetto a qualche attenzione da parte della magistratura per elementi che coinvolgono la moralità con la quale sta svolgendo la sua funzione pubblica, quel qualcuno si è messo in condizione quantomeno di non nuocere all'immagine politica e faccia un passo indietro rispetto al partito. Io voglio che il popolo della libertà che sta costruendo da oggi un suo futuro che deve rispondere a quell'esigenza di risposta della politica, perché la politica oggi si è incartata anche perché da troppi anni in Italia la politica non è più tale, è un derby continuo tra quelli che sostengono Berlusconi e quelli che vogliono vedere morto politicamente Berlusconi, magari qualcuno lo vorrebbe vedere morto non solo politicamente. Noi, ed è particolare che siamo stati proprio noi del popolo della libertà ad averlo capito, siamo i primi, ma magari torneremo su questo argomento se c'è spazio ancora per un'altra domanda, siamo i primi ad avere aperto una stagione che si pone l'obiettivo di costruire una politica che vada al di là del derby pro o contro Berlusconi, ma se vogliamo essere i primi a costruire la politica dei prossimi 10, 20, 30 anni, dobbiamo anche essere i primi a far capire ai nostri elettori e a quelli che fino a ora non ci hanno guardato con simpatia che qui possono arrivare sapendo di poter contare su gente per bene. Mi assicurano che stiamo arrivando al termine della serata per cui poi ci liberiamo tutti. Due brevissime riflessioni che ascoltando i colleghi mi sono venute in mente. La prima una dichiarazione del Presidente Napolitano, molto grave, molto seria, che ha detto che questa antipolitica ha in sé gli umori di un percorso antidemocratico. Detto da Napolitano credo sia una cosa che vada riascoltata con molta attenzione. Perché Napolitano, che non è certo di destra, che non ama Berlusconi, oggi si sente in dovere di dire che questa ondata dell'antipolitica ha in sé gli umori di qualcosa di antidemocratico. Lo dice perché è evidente che senza la politica che detta le regole questa sarebbe la giungla e nella giungla chi ci rimette è sempre il più debole e noi non vogliamo che i più deboli ci rimettano. Quindi io lascio questo tema nella nostra coscienza che sedimenti perché alimentare l'antipolitica è una cosa che alla fine ci provocherà un danno individuale. Un'altra riflessione, i costi della politica. Io faccio parte di un Rotary, alla prima riunione mi hanno chiesto ma vorremmo sapere lei quanto guadagno, ho fatto un dossier, ho scritto quanto guadagno, quanto costo e l'ho consegnata a questi signori, i quali poi alla fine mi hanno detto ma allora non è vero. Certo che non è vero, così come non è vero che il barbiere è gratis perché costa esattamente il barbiere della Camera, lo paga anche lui. Il barbiere della Camera costa esattamente quanto costa il mio barbiere a Lavagna, 18 Euro costa Lavagna e 18 Euro costa la Camera. Poi non lo so quanto costi il barbiere ai cittadini, però io so che io come parlamentare posso andare indipendentemente da Lavagna. Quindi anche questa è una cosa che, come dire, c'è molta leggenda in tutto ciò. Le auto blu, io non ho l'auto blu, vado in motorino, quindi non so bene chi ce l'abbia questi parlamentari con l'auto blu. Corsaro non c'ha l'auto blu, Grillo non c'ha l'auto blu, quindi non si sa bene dove siano queste auto blu. Io ai giornalisti domando, magari citate le fonti, no no no, magari citate la fonte ogni tanto, ma il signor c'ha l'auto blu. Bene, ma ditemi chi, come, dove e quando, che forse è più chiaro perché ho la sensazione che ci sia anche molta leggenda metropolitana in tutti questi costi della politica. Grillo ha ancora detto una cosa ancora più seria e arriva alla conclusione di cosa dovremmo fare noi e non abbiamo avuto il coraggio di fare. Grillo ha detto che il costo del Parlamento è lo 0,5%, benissimo, mettiamo che debba diventare lo 0,4% perché così siamo più bravi. Bene, siamo contenti, ma io domando perché noi l'altro giorno quando stavamo votando per l'abolizione delle province, nelle province non le abbiamo abolite. E no, questo però è colpa nostra, perché siamo caduti nel ricatto della Lega, perché questo bisogna dire, che complice il Partito Democratico hanno impedito che il popolo alla libertà rispettasse un impegno degli elettori. Io personalmente, che sono il primo presentatore della legge costituzionale per l'abolizione delle province, firmata assieme a tanti amici, compreso Bianconi ed altri del popolo della libertà, per cui voglio dire, c'erano tutte le espressioni culturali che si riconoscono in noi, sono stato chiamato dal nostro e ci hanno detto, ma guarda che quella roba lì noi dobbiamo farla, perché se non la facciamo la Lega minaccia Sfacelli. Allora con lunga battaglia abbiamo lavorato per produrre un nuovo testo, questo testo è stato firmato di nuovo dai parlamentari del PDL, segnatamente io, il Presidente Bruno della Prima Commissione, Bianconi Medesimo e Calderisi e abbiamo detto per compiacere la Lega, perché poi la verità, e concludo, per compiacere la Lega e il PD abbiamo dovuto descrivere, le province verranno abolite, ma ogni regione se vorrà, se le potrà tenere e farsi come gli pare, pagandosele, quindi probabilmente se questa regge arriva in porto noi otteniamo il risultato di aver abolito le province, speriamo che ciò accada presto, nel contempo abbiamo contemperato l'esigenza di stabilità del governo perché non potevamo mandare tutto a puttane, ma il risultato è che abbiamo fatto una figura di merda, ecco questa roba qua io, caro Vice Capogruppo, non sono più disposto a farla, perché noi facciamo un sacco di figure di merda quando potremmo non farle, perché anche in Parlamento queste cose si possono dire e dire guardate noi votiamo questa roba, io mi sono alzato, ho detto la voto per dovere il partito, però noi potremmo dire guardate che la condizione in cui giriamo è questa e dire agli italiani perché non abbiamo abolito le province, ecco noi forse dovremo avere un pochino più di coraggio, perché sono convinto che nel PDL, che comunque resta il partito che sta dalla parte giusta, che ha le idee giuste e che ha i valori in cui credere per avere un disegno da realizzare e per poter consegnare il nostro Paese a un futuro non dico di certezze ma perlomeno di speranze, deve avere il coraggio di farlo, anche a costo di sconquassare un pochino la nostra alleanza di governo, noi non possiamo sempre subire ogni e qualsiasi cosa, è una cosa che ci rende impotenti anche nell'andare in giro e sostenere le proprie ragioni. Io vi invito a continuare a fare questa battaglia perché la battaglia della verità è la battaglia che ci consentirà di guardare i nostri elettori e i nostri concittadini in faccia non vergognandoci. Signori, giuro che stiamo chiudendo, vorrei una risposta di un minuto ma una da ciascuno di loro. Alfano è il candidato Premier del 2013, augurandoci di arrivare al 2013. Un minuto se no credo che ci tirano la mano. Alfano è il nostro segretario nazionale, bisogna augurarci che faccia bene, ha tutte le condizioni per fare bene, è giovane, intelligente, è motivato, colto, sa parlare, quindi io credo che per l'immediato ci dobbiamo porre questo problema, che faccia bene la gestione di questo grande partito, che lo rilanci, che crei regole e condizioni per cui la democrazia all'interno del PDL sia sempre più diffusa e più partecipata, poi il resto lo vedremo, non possiamo apotecare il futuro. Mi dichiaro subito, ci metterò due minuti, perché devo riprendere un passaggio che ho fatto prima, l'operazione Alfano. L'operazione Alfano è un'operazione senza precedenti, è la prima volta realisticamente in cui un grande leader politico avverte, mentre è ancora in pieno esercizio il suo potere, la necessità di costruire l'avvenire della sua parte politica dopo la sua stagione. Nessuno ha avuto la sensibilità, la capacità, la prontezza di affrontare il dopo. Berlusconi ha avuto la sensibilità, la capacità, la prontezza, credo di poter dire, sperando che i fatti ci confortino, anche il fiuto della scelta della persona, per dire che noi stiamo per cominciare a costruire quello che verrà dopo. È importante, anche per quanto ha detto Michele Scandroglio nell'intervento precedente, Michele ha rivendicato la necessità che il partito assuma un po' di autonomia politica, anche rispetto ai colleghi di coalizione. Fino ad oggi, diciamoci la verità, il Popolo della Libertà è stata un'idea geniale di Berlusconi, che ha messo insieme storie, culture, tradizioni, appartenenze diverse. Già noi, che siamo qui dalla stessa parte, abbiamo vissuto nella nostra storia percorsi differenti e oggi siamo tutti orgogliosamente sostenitori di questa stessa bandiera. ma, nel volgere di questi primi tre anni di vita, il Popolo della Libertà è stato sostanzialmente il portavoti, non il portavoce, il portavoti del governo. Costruire un partito che si dà in costanza di vita del proprio governo e in costanza di governo del proprio Presidente del Consiglio, del proprio leader storico, del proprio fondatore. Una leadership diversa, con un segretario politico che ha 40 anni e che ha necessariamente come primo obiettivo quello di costruire un partito che non avrà più l'ottica necessariamente ed esclusivamente di sorreggere questo governo, ma certamente di costruire un partito che si deve governare anche dopo questa legislatura, con un altro governo, con altre coalizioni, con altri leader, con altri Presidenti del Consiglio, con altri Ministri e che voglia guardare alla costruzione di un'area di centrodestra consolidata sotto il profilo politico e culturale indipendentemente dalle alterne vicende, dalle alterne fortune della politica che volta a volta ti mandano un po' il governo e un po' l'opposizione, perché capiterà anche prima o poi di dover stare l'opposizione e non sarà la fine di tutto se avremo la capacità di continuare a fare politica in una struttura politica che sia in grado di darsi dei contenuti. Credo che questo sia il maggiore investimento che noi abbiamo saputo e voluto fare e credo che il grande obiettivo di Alfano in questo momento con l'aiuto di tutti noi debba essere questo, anche dando segnatamente evidenza al fatto che da oggi il popolo della libertà, anche di fronte al nostro governo di cui siamo i maggiori azionisti e di cui siamo i primi sostenitori, siamo in condizioni di porci in posizioni di terzietà, ci dovranno essere dei momenti in cui se il nostro governo di cui siamo i maggiori sostenitori dovesse dire o dovesse proporre delle cose che non ci soddisfano o dovesse cedere per motivi di opportunità a richieste di altri soci della coalizione che non ci soddisfacessero, noi a quel punto dovremmo dire le cose così non vanno e rispetto all'appoggio del popolo della libertà le cose devono essere cambiate secondo quello che è l'intendimento del maggiore azionista di riferimento del governo. Se poi la domanda è che cosa succede nel 2013, io lo dico anche se normalmente non lo si dice, io sono convinto che il Presidente Berlusconi non si candidera più a fare il Presidente del Consiglio del Consiglio nel 2013 e che il popolo della libertà, maggiore azionista della coalizione di centrodestra, avrà l'onere di proporre un prossimo candidato Presidente del Consiglio. Credo però che nessuno possa pensare di potersi sostituire in termini di appeal, in termini di credibilità, di popolarità, di capacità di raccolta di consenso a Berlusconi. Quando Berlusconi decideva di scendere in campo era naturalmente il candidato Premier. Oggi non esistono naturali candidati Premier. Noi lavoreremo e sono certo che arriveremo a determinare un sistema di individuazione del candidato Premier, probabilmente tramite le primarie, che dovranno essere primarie di coalizione, che dovranno vedere la partecipazione di quanti insieme a noi vorranno decidere chi sarà il Premier. Ma siccome non voglio sfuggire fino in fondo alla provocazione, dico che auspico l'indizione di primarie di coalizione per la scelta del candidato Premier del 2013, ma mi ascrivo già da oggi tra i missionari che sosterranno in quella battaglia per la Premiership Angelino Alfano come prossimo Presidente del Consiglio. Allora, noi abbiamo votato Alfano nominandolo un mese fa, giusto, segretario politico del partito, io credo che parta in pole position. È evidente che il segretario del partito si candida automaticamente a ricoprire la leadership, così vuole il bipolarismo, così vuole ogni stagione. La conferma di questa candidatura, che trova la mia sottoscrizione, avverrà nelle forme che la politica moderna ci suggerirà. Se saranno le primarie, io mi auguro che assieme ad Angelino scendano in campo altri, in modo che il confronto sia forte e sia determinato, magari con una ipotesi di ticket, perché noi non dimentichiamoci che quando parliamo di primarie, noi dobbiamo poi sempre pensare che abbiamo un alleato e che l'alleato magari le primarie non le fa, oppure ne avremo più di uno e quindi capite che non è così semplice immaginare questa scelta, ci vuole un percorso condiviso fra gli alleati, che io mi auguro siano di più di quelli che abbiamo adesso e quindi poi si deve fare un percorso. Rispetto Alfano io dico solo una cosa, l'altra l'altro giorno c'era la riunione del copitato delle garanzie, delle regole e Berlusconi non c'era, non è una cosa da poco, io ho assistito al primo incontro del segretario politico con i coordinatori regionali, c'era Berlusconi, devo dire la verità, ha lasciato campo molto serenamente a che Angelino argomentasse. Sono due gesti di grande generosità del Presidente Berlusconi, qui tutti noi dobbiamo essere grati perché anche se oggi la sua stella non brilla più come prima, io vi chiedo di ricordarvi che se dal 1994 a oggi il Popolo della Libertà, il centro-destra e i moderati non sono consegnati ai comunisti, lo dobbiamo ancora a lui e io lo voglio ringraziare, vi prego di fare un applauso a Berlusconi perché oggi ce lo dimentichiamo un po' troppo, prima ogni due per tre si parlava di Berlusconi, il nome Berlusconi l'applauso era scrosciante, oggi ce ne dimentichi, sono di quelli che gli amici pensano che si riconoscano nel momento in cui ne hanno bisogno e con questo credo di dover ringraziare anche tutti gli amici delle cucine che non ci vedono, non ci sentono, ma un applauso anche a loro che stanno lavorando mentre noi siamo qua e ai due inventori della festa della libertà regionale, prima provinciale o regionale, Luigi Morgillo e Giacomo Giampedrone che in questi anni unitamente a Gatti che si è ultimamente accodato a questa bella avventura, ringrazio anche della presenza, il capogruppo del PDL in regione Matteo Rosso, un vivacissimo combattente e altri che non voglio citare perché se no poi me ne dimenterei qualcuno. Grazie a tutti e grazie anche al nostro conduttore che ci allieta sempre con la sua magnifica oloquela, grazie a tutti. Saluti, saluti a mangiare.